Sequestrati 360.000 euro dalla Guardia di Finanza di Padova, rinvenuti su conti correnti di un imprenditore e di un consulente finanziario denunciati per riciclaggio, furto e truffa aggravata commessi a danno di persone anziane. Secondo gli indizi raccolti nelle indagini, il consulente finanziario, già dipendente della filiale padovana di un noto istituto di credito, avrebbe raggirato nel tempo clienti ignari ai quali prometteva rendimenti particolarmente redditizi per poi sottrargli somme consistenti dai conti correnti. Questo il modus operandi accertato dalle fiamme gialle. Approfittando del rapporto di fiducia instaurato con alcuni anziani e benestanti clienti, trasferiva i loro risparmi su conti correnti di un imprenditore milanese anziché destinarli agli investimenti prospettati. Le indagini hanno consentito di appurare che gran parte delle somme sottratte alle vittime, dopo essere transitate su conti correnti dell'imprenditore, finissero nella disponibilità del consulente infedele per essere poi utilizzate nell'acquisto di beni di lusso.